Dieci piccole ragoste sono state riportate nel loro habitat naturale ieri pomeriggio nel corso di un'operazione di polizia marittima del pattugliatore d'altura CP291 della Guardia Costiera di Porto Torres nel tratto di mare a poche miglia d'Astintino. Nel corso di un normale controllo, nel Golfo dell'Asinara, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno fermato un motto peschiereccio che aveva una decina di carapaci che non raggiungevano i 9 cm di lunghezza, perciò sono stati immediatamente rimessi in libertà e l'imbarcazione è scortata nel porto di Porto Torres, sede abituale dell'armatore per ulteriori controlli. Al titolare della barca è stata contestata la sanzione amministrativa di 1000 euro per la violazione delle leggi in materia di rispetto delle taglie minime del pescato e, combinata la sanzione accessoria dell'applicazione di 5 punti di penalità sulla licenza di pesca, si ricorda che il raggiungimento dei 18 viene automaticamente sospesa l'autorizzazione e il titolo professionale di comandante per un periodo di due mesi. L'operazione di ieri ha impedito che il prezioso crostaceo finisse sulla tavola dei consumatori, impoverendo così una preziosissima risorsa itica, portano a ritenere che le piccole ragoste siano state catturate all'interno dell'area marina protetta dell'Asinara a discapito di un delicatissimo ecosistema. Il comandante della Capitaneria Capitano di Fregata Emilio del Santo ha assicurato che i controlli in mare, allo sbarco e nei punti vendita saranno regolari al fine di verificare il rispetto delle taglie minime dei prodotti della pesca.